Allora, questa settimana finisce il mondo praticamente, finisce il mondo perché sembra che ci sia lo spartiacque mondiale che è il Natale. Allora, uno deve vedere una persona domani, non so che è il 21, guarda facciamo dopo le feste perché sono incasinato, non riesco, e poi è scattata la moda del non ho ancora fatto tutti i regali, voi come siete messi sui social, quelle puffarole delle influencer, ecco come siete messi con i regali, io non ce la sto facendo, poi mi ridurrò tutto l'ultimo giorno, quindi luoghi comuni, melasse, tutta questa roba grondante di niente che è, adesso poi guarda facciamo così, sentiamo dopo le feste, dai facciamo così, ci sentiamo dopo le feste, cosa vuol dire dopo le feste, cosa vuol dire? Cioè il Natale, vabbè il giorno del Natale starai con i tuoi, mettiamo pure Santo Stefano, però già il 27, 28, 29, 30 cosa fai? Di mo' cosa fai? Dopo le feste, quindi dopo l'epifania, è gente che non ti vuole vedere evidentemente perché si deve inventare quella scusa lì, facciamo ben dopo le feste, dai, lasciam passare sto periodo, ma che periodo? Cioè Natale, uno compra due regali, delirio assoluto, finisce il mondo, cioè fra un giorno o due finisce il mondo e ricomincia un altro mondo, secondo me di smerigli, di zinzing infiniti, come stiamo facendo adesso.